Buonasera, shavua tov, a tutti. Lech lecha. Va. Difficile, molto difficile che qualcuno ti dice Va. Lasci tutto. Lasci la tua fede. Emilia, lasci i tuoi beni e vai in un posto dove io ti mostrerò, dove vado, non ho la minima idea, che cosa mi aspetta, non lo so. Come arrivo? Non lo so. Non c'è un aereo. Non c'è una direzione. Come è possibile che Abraham, Abraham, il nostro patriarco, fa quello esattamente come Assem lo dice. ho pensato tanto perché mi sembra ieri che ero in una in una situazione non molto simile ma c'è qualche cosa dove una cosa mi tirava fortissimo è un'altra cosa c'era già la mia casa e la mia vita tutto era in israele e qui chiamava ma in un tono fortissimo la calabria e specialmente il parco archioderi la sinagoga quello che ho sentito lì che nessuno mi può portare via e sono andata e sono venuta e non sapevo esattamente dove quando come ma sapevo che quello è il posto dove devo essere e quello è il posto dove c'è la missione e quando sono tornata la prima volta sono andata al mio ora era smuella liao infatti e l'ho parlato di questo sentimento fortissimo che mi trascinava proprio trascinava e lui mi ha detto vai insegni apri la torà fai vedere corti e certi le scintille ti sono stati sepolti nella terra ritrovi le scintille e portali a casa e quando io vedo che le persone che ci sono vogliono fermarmi e vogliono prendere via quello che ho lavorato così tanto e vogliono farmi del male e vanno indietro della mia spalla e mi pugnano io penso a queste parole del rav e penso al avramo e penso nello stesso tempo al salmo numero 3 e penso che voglio iniziare con il salmo numero 3 perché mi sento molto 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 forte molto forte che con quello che è successo durante questa settimana mi sta molto molto vicino la fiducia che i giusti ripongono nel signore li sostiene e li mette in grado di superare i momenti di difficoltà e qui ci sono nove versi di questo salmo che parla precisamente di un dolore forte del re davide e come lui si comporta con i suoi nemici un salmo di davide quando fuggiva a causa del suo figlio assalone o eterno quanto sono numerosi i miei avversari sono in tanti a insorgere contro di me molti sono quelli che che dicono a proposito della mia anima per lui non c'è salvezza che provenga dal signore mai ma tu o eterno sei per me come uno scudo sei la mia gloria e colui che risoleva il mio capo con la mia voce io invoco l'interno ed è lì mi risponde dal suo monte sacro sempre se la io mi sono coriccato e mi sono addormentato inquieto eppure ora mi sono svegliato tranquillo perché ho fiducia che l'eterno mi sosterrà io non temo io non temo i miei radii di persone che si sono accampate attorno a me non temo sorgi o eterno e salvami o il mio signore perché tu hai colpito alla mascella tutti i miei nemici tu hai rotto i denti dei malvaggi la salvezza appartiene solo all'eterno possa la tua benedizione restare sempre sul tuo popolo sei là il re davide sta scappando del suo figlio assalone quando un genitore deve avere paura del suo figlio magari potete immaginare o magari no perché non vorrei che nessuno mai soffre una cosa di questo genere e davide sa i suoi nemici come io so i miei e davide sa anche che dal punto di vista quello che lo circonda non c'è da sperare ma lui ha la fede e lui sa che anche quelli che sono contro di lui e stanno facendo la guerra e stanno cercando di colpirlo in tanti modi non è solo guerra ma ci sono altri modi per colpire un nemico ma lui dice con parole molto 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 chiare molti sono quelli che dicono a proposito della mia haima ma per lui non c'è salvezza e sicuramente se lui è da solo loro sono in tanti miradi di nemici sicuramente vanno a prenderlo e sicuramente vanno a farlo del male ma lui non si preoccupa perché ma tu o eterno per me sei come uno scudo sei la mia gloria e colui che vuole a distruggermi non è neanche una preoccupazione perché tu sei la forza tu sai che cosa va bene tu mettiti contro i nemici tu gli fai soffrire tu gli fai vedere la tua mano in tanti modi che loro non si possono neanche immaginare ma sappi che la forza non è la tua ma la forza e dirci e quanto più tu vai a chiedere aiuto a lui e quanto più ti metti nelle sue mani e quanto più tu vai nella sua via e tu cerchi con tutto il tuo cuore di fare e ascoltare non è detto non è detto assolutamente che non avrai problemi e non è detto che oh la vita è rosa e non avrai più a pensare a loro o avere sentimenti negativi ma una cosa è certa la forza che ti viene con la fede e con quello che ti dice Hashem e allora è un'altra cosa completamente tu non ti senti che stai combattendo da solo invece tu senti che la forza è con te the force is with you may the force be with you che la forza sarà con te io vi auguro il tutto e a tutti che questa forza sia con voi sempre anche nei giorni che si soffre anche nei giorni che tu ti senti e non sai più che cosa da fare perché tu vedi il male che sta venendo a pugnarti e mangiarti e ti vuole distruggere non tenere non tenere non tenere perché quello come con Abramo è una sfida e la sfida è vediamo come ti comporti quando ti comporti quando hai dei problemi e quando vedi di fronte a te stesso quello che sta succedendo e questo ci porta dentro il discorso di Abramo allora siamo nel nel chumash di Mamash e siamo nella sintesi perché quello che dice il re Davide stiamo vivendo in questa porzione lasciamo chiamare Avram lasciamo ordine ordine ad Avram di lasciare la terra nata per una meta che gli indicherà per una meta che gli indicherà Avram parte per Canaan con la moglie Sarai il nipote Lot e tutte le persone avvicinate si con loro al Dio unico la viene colto da una caristia e si trasferisce in Egitto come hai detto ma tu vai nella via del Signore tu stai andando dritto dritto e stai facendo quello che vuole lui allora arrivi in un macello e si deve trasferire in Egitto il faraone Egitto rapisce Sarai senza sapere che è sposata perché Abram conosce le abitudini degli egiziani vedano una bella donna allora la prendono interessante che lui dice a Sarai io mi rendo conto che tu sei bella io mi rendo conto che tu sei bella allora dirgli che tu sei la mia sorella e allora se tu dici che tu sei la mia sorella allora mi faranno ricco e così e così e così lei ha fatto ma Hashem non gli è piaciuto il Sarai potrebbe anche essere presa dal punto di vista moglie moglie e lui l'ha fatto moglie ma non è arrivato al punto perché c'è una piaga nel palazzo e si è reso conto il faraone che qui qualcosa non va e allora lui ha chiesto a Abramo e Abramo gli ha detto senti io avevo paura che tu mi vai a ammazzare allora lui ha detto vai vai via prendi tutto questo le grezze tu vai non ti voglio vedere vai via ok Sarai viene restituita ad Abramo poi rilasciato con grande ricchezze lite tra i pastori di Avram e quelli di Lot e separazione fra i due allora qui si deve capire un'altra cosa Lot il nipote era malvagio totalmente Abramo era buono totalmente Abramo non voleva lasciare a Lot e attualmente Lot aveva tantissimo rispetto per come è Abramo ma il male dentro una persona è così forte che scavalca attualmente il bene che peccato perché siamo esseri umani non siamo non siamo e ci sono quelli che non sono abbastanza forte per veramente prendere la strada del bene sanno quello che è buono sanno quello che si devono fare ma alla fine non lo fanno e allora qui c'è Abramo hanno problemi con le grezze ci sono le grezze ci sono tantissimi non c'è abbastanza posto e Abramo lo dice senti tu vai alla sinistra io andrò alla destra tu vai alla destra io vado alla sinistra allora l'ha dato qualsiasi scelta che era possibile e Lot ha preso la scelta e ha fatto le tende a Sodom e allora se tu sai qualche cosa tu sai che il male del tempo era assolutamente Sodom allora è normale per il bene di andare le strade del bene e il male di fare le strade del male anche se tu per un momento puoi pensare che qualcosa si è cambiato ma alla fine la verità viene fuori assolutamente e qui sono le promesse di Hashem a Avram e Hashem promette Avram la terra di Israele è una discendenza numerosa come i granelli della sabbia e come le stelle del cielo Lot numero 4 Lot diventa prigioniero guerra e vittoria dei quattro re contro i cinque re questo dovete leggere cattura di Lot perché Lot tutti sapevano che è il nipote di Abramo e si somigliavano incredibilmente e allora hanno detto guardi abbiamo preso Avram perché lo odiavano tutti tutti quelli che erano con gli idoli e pregavano agli idoli e qui c'è quello che parla di un unico Dio e ci sono dei dei problemi abbastanza incredibili con lui e pensavano perché hanno preso Abramo prenderanno tanti 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 soldi per uno che sembra Abramo ed era Lot ovviamente Avram combatte e vince i quattro re allora sono andati via uno dall'altro ma il fatto che Lot era in difficoltà ed era prigioniero non era abbastanza una ragione per dire ok lui è da un'altra parte io sono da un'altra parte allora non me ne interessa più invece Abramo ha preso 318 uomini e con 318 uomini ha fatto la guerra contro i cinque re come si fa fede aiuto di Dio sapienza sapienza e allora dove sono avram rifiuta per sé qualsiasi compenso dal re di Sedom per la vittoria richiedendo tuttavia tuttavia per i suoi combattenti allora vincendo la guerra il re di Sedom vuole darlo una ricompensa e Avram dice no di te non prendo niente dai ai miei combattenti non altra cosa una persona che veramente veramente vuole fare del bene non ha bisogno di accettare favori e non ha bisogno di dire fai per me perché io sono grande l'altro è niente invece può essere generoso lascia che fa il ricompenso viene da altre parte nuove promesse di Hashem numero 5 ad Avram promessa di un figlio e di una discendenza numerosa come le stelle patto fra le parti in cui Hashem preannuncia ad Avram la temporanea schiavitù egizia dalla quale i suoi discendenti usciranno con grande ricchezze e poi erediterà la terra promessa ok qui devo un po' spiegare perché voi sapete che la Torah non è in ordine e qui si si può un po' confondere a Avram è molto molto ricco e lui dice a Dio ma perché queste ricchezze io non ho nessuno a cui lasciarli non ho un figlio non ho un figlio il mio il mio aiutante Eliezer va a ereditare tutto quello che ho io ma c'è un fa le cose quando le fa li fa completamente giusti sempre e anche se le cose vanno bene o vanno male non è questo il discorso il discorso è di avere fede che tutto è assolutamente perfetto e come deve essere e nella Torah è scritto che mentre la SEM parla Avram dorme in una in una in un dormire molto 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 profondo che è oscuro in una oscurità e vede la schiavitù del popolo vede il pianto del popolo e vede 400 anni dei suoi discendenti in Egitto ma la SEM lo dice non ti preoccupare io non dimenticherò li prendo fuori e andranno via con tante ricchezze il numero sei è la storia di Hagar che era la figlia del faraone che dieci anni era l'aiutante di Sarai attualmente a che dopo viene chiamato Sarai e Abram viene chiamato Avraham quando Hashem mette il è il suo nome su tutti e due e lui dice a Abram che lui avrà un figlio ma prima di questo c'è la storia di Sarai e Hagar allora Sarai non poteva avere bambini era sterile e dopo anni e anni e anni lei dice a Abram senti tu devi prendere la mia aiutante e cercare di avere un figlio e lui la prende moglie e lei entra incinta e nel momento che lei entra incinta si sente wow chi sono io chi sono io ma sarai la tratta male e lei se ne va che che altro nella via nel deserto vengono gli angeli dicono ma dove tu vai e lei piange ma mi trattano male mi trattano male sarai mi tratta male e l'angelo dice tu torni sommettiti perché il tuo figlio sarà una grande nazione io non mi dimenticherò e dovete leggere perché parola parola è una cosa fenomenale perché andate a capire che cosa è successo al Abramo che è diventato il il patrone il patriarco di popoli non è solo il patriarco del nostro popolo del popolo ebraico ma è il papà il patrone il patroncino il patriarco dei ismailiti perché il figlio che nasce ismail diventa una numerosissima un numerosissimo popolo e lo vediamo oggi quelli sono i figli di ismaele dio ha benedetto ismail non tutto il bene e l'ha detto come sarà e quando leggete vedete che è già detto dall'inizio che lui sarà guerra che lui sarà sangue che lui avrà una forza una potenza nel mondo ma diverso del bene e Hashem è capace di fare sia uno sia l'altro dipende da da come ti comporti con lui e allora Sarai essendo sterile chiede al marito di unirsi alla serva Hagar la quale rimane incinta tensioni tra Sarai e Hagar con la conseguente fuga di quest'ultima Hagar incontra l'angelo e le comanda di porre al figlio il nome Ismael allora abramo non ha scelto il nome del figlio Ismael quello viene direttamente dalla volontà di dio attraverso l'angelo e dopo ci sono i cambiamenti dei nomi Hashem cambia il nome di Avraham in Avraham e dopo lui fa il patto e ne parliamo un attimo anche il cambiamento ovviamente di Sarai in Sara e la promessa della nascita di Ischak siamo a Sarai di 90 anni e a Abramo di 100 anni e diventano genitori e che cosa vuol dire? vuol dire che c'è un dio e se la fede è forte se la fede è forte la ricompensa è forte e allora quando Hashem fa il patto stabilirò il mio patto tra me e te e ti moltiplicherò immensamente Avraham cade sul volto e Dio gli parlo dicendo quanto a me ecco il mio patto con te sarai il padre di una moltitudine di nazioni non ti chiamerai Avraham il tuo nome sarà Avraham poiché ti ho reso padre di una moltitudine di nazioni ti farò prolificare immensamente farò di te delle nazioni e da te usciranno re manterò il mio patto tra me e te la tua posterità dopo di te nelle loro generazioni come patto eterno per essere Dio per te e per la tua posterità dopo di te darò a te e alla tua posterità dopo di te la terra in cui risiedi tutta la terra di Canaan come possedimento eterno e sarò per loro il Dio Dio disse a Avraham quanto a te osserverai il patto tu e la tua posterità dopo di te nelle loro generazioni questo è il mio patto che osserverete tra me e voi e la tua posterità dopo di te vi circonciderete ogni maschio vi circonciderete la carne del vostro perpuzio e sarà segno del patto tra me e voi alla età di otto giorni ogni maschio tra voi sarà circonciso nelle vostre generazioni colui che è nato in casa e colui fra gli stranieri che è stato acquistato con il tuo denaro e che non è della tua discendenza sarà obbligatoriamente circonciso colui che è nato in casa tua e colui che hai acquistato con il tuo denaro il mio patto sarà nella vostra carne come patto eterno un maschio un maschio incirconciso che non avrà circoncisione la carne del suo prepuzio quella anima sarà ricesa dal suo popolo avrà violentato il mio patto Dio dice sarai la tua moglie non si chiamerà sarai perché il suo nome sarà sarà la benedirò eppure ti darò da lei un figlio la benedirò la benedirò e diventerà madre di nazioni da lei deriveranno sovrani di popoli Avram cade sul volto e dirà e dice un figlio a un centenne sarà genera genererà alla età di 90 anni Avram disse a Dio possa Ismael il suo figlio con Hagar vivere dinanzi a te quello è ovvio se Avram chiede è perché il figlio non vive dinanzi dinanzi a Hashem tuttavia tua moglie ti partorirà un figlio che chiamerai Ischak anche qui non è il nome che sta dando a Avram al suo figlio ma è scelto da Hashem manterrò il mio patto con lui come patto eterno per la sua posterità dopo di lui quanto a Ischmael ti do ascolto eh perché Avram gli vuole bene il suo figlio ecco che lo benedico lo faccio proliferare e lo moltiplicherò immensamente genererà dodici principi principi e ne farò una grande nazione ma il mio patto manterò con Yitzchak che Sara ti partorierà in questo tempo l'anno venturo qui ci sono delle cose molto 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 forte e una delle cose è ovviamente la circoncisione e la cosa è molto facile da capire un bambino maschio nato da una madre ebrea che è ebreo deve essere circonciso se non è circonciso la sua anima viene tolto dal popolo ci sono tante volte nella Torah che Hashem dice se non ascolti le mie precette e non fai quello che io ti dico la tua anima viene presa via dal popolo magari ci può pensare un attimo perché il popolo ebraico ha sopravvissuto quando altri non ci sono più ma perché è il popolo più piccolo del mondo penso che le cose sono chiare allora la parasha ovviamente finisce la porzione finisce con la circoncisione è un grande patto un un per sempre è il nostro patto con la scena non è una cosa da buttare è scritto è scritto nel corpo di ogni maschio un giorno ne parleremo il patto con le donne che non è non è lo stesso ovviamente come quello di circoncisione ma c'è ci sono delle cose molto molto forti che dio ha dato a alle donne invece della circoncisione non sono meno forti intanto ho parlato di tante cose vi auguro una buona settimana vi mando benedizioni e vi dico io io non temo non temo i miei nemici perché Hashem è il mio amico come amico di tutti quelli che chiedono il suo aiuto con un cuore vero lui sa la differenza tra uno e l'altro statemi bene e con l'aiuto di dio ci vediamo settimana prossima shalom shalom